Purtroppo non è riuscita a centrare la finale olimpica dei 1500 metri l'atleta avruzzese Gaia Sabatini dopo l'eliminazione dell'Azzurra in una delle due semifinali chiusa all'ottavo posto con il tempo di 4.02.25. La FIDA l'ha anche presentato un ricorso poi respinto. Secondo la federazione Gaia sarebbe stata rallentata e dunque danneggiata dalla caduta di altre due atlete. Però appunto il ricorso è stato respinto. Questa mattina Gaia Sabatini ha messo a segno nonostante l'esclusione dalla finale un'ottima prestazione perché ha chiuso con il suo nuovo record personale il secondo risultato italiano di tutti i tempi sui 1500 metri dopo Gabriella D'Orio che corse nel 1984. La caduta di due atlete dopo circa 800 metri ha ostacolato però Gaia Sabatini e ha determinato una frattura che non è stata ricomposta rispetto al gruppo in gara. Nella pallanuoto l'Italia di Di Fulvio è finita a KO con la Serbia 6-10 mentre nella beach volley Paolo Nicolai e Daniele Lupo si sono arresi ai quarti 2-0 alla coppia del Qatar. La coppia italiana del beach volley maschile formata appunto da Lupo e Nicolai, abruzzese quest'ultimo, ha perso in 2-7, 21-17, 23-21 contro i Catarioti nei quarti di finale del torneo olimpico. Quindi è stata eliminata e non potrà difendere o migliorare la medaglia d'argento vinta 5 anni fa in Brasile.